Bentornati sul canale Amo gli italiani. Oggi con le ultime notizie come La famiglia Borromeo è una delle più importanti della nobiltà milanese. La più amata in nota al pubblico è Beatrice Borromeo. Bellissima e biondissima, ma conoscete sua sorella? Si chiama Matilde ed è di una bellezza straordinaria .Beatrice Borromeo. La dinastia di oggi dei Borromeo comprende i due fratelli, Gilberto Borromeo, che ha sposato Bona Borromeo, dal loro amore sono venuti al mondo due figli, Vitaliano X e Federico Borromeo Il secondo fratello si chiama Carlo Ferdinando Borromeo, che ha sposato Paola Marzotto, con cui ha avuto due figli, Beatrice Borromeo e Carlo Ludovico Borromeo Ma Carlo Ferdinando, prima di sposare la figlia della stilista Marta Marzotto e del conte Umberto Marzotto, ha avuto un altro matrimonio e anche altre tre figlie, Isabella, Lavinia e Matilde. Quest'ultima è la più piccola della famiglia ed è una donna molto riservata, conosciamola meglio Chi è Beatrice Borromeo? Tutto sulla sua carriera e vita privata Classe 1985, nata il 18 agosto a San Candido in provincia di Bolzano Come abbiamo detto Beatrice Borromeo Arese Taverna è la figlia di Carlo Ferdinando Borromeo e Paola Marzotto Uno dei suoi antenati paterni più conosciuti era il cardinale Carlo Borromeo, diventato poi santo . Beatrice Borromeo, è la più nota della famiglia. Ha conseguito una laurea in scienze giuridiche a Milano Lei è una nobile, modella, conduttrice, giornalista, moglie, mamma e scrittrice . Beatrice Borromeo. Ha spilato per Valentino, Chanel, Trussardi, Blu Marine, Armani e Alberta Ferretti Inoltre ha lavorato come giornalista e conduttrice con Michele Santoro ad Annozero, il Newsweek, Radio 105 e con Il Fatto Quotidiano. Punto come abbiamo detto è anche una scrittrice, infatti, ha scritto libri per bambini e ha una sua casa di produzione per realizzare documentari sul cambiamento climatico e femminismo . Riguardo la sua vita privata, sappiamo che nel 2015 è convolata a nozze con Pier Casiraghi, figlio di Stefano Casiraghi e Carolina di Monaco . Dall'amore tra Beatrice e Pier sono nati due bambini Stefano Carlo e Francesco Carlo Alberto Casiraghi Insomma, la Borromeo è nota al pubblico per la sua carriera, ma sapete chi è sua sorella minore? Si chiama Matilde ed è davvero bellissima, conosciamola meglio . Chi è Matilde? Tutto sulla sorella di Beatrice Borromeo.Classe 1983, nato l'8 agosto a Milano Matilde è di una bellezza stellare, ed è una delle sorelle Borromeo. Per la precisione è la terza, dopo Isabella, moglie del conte Ugo Maria Brachetti Peretti e la vigna sposata con il presidente di FCA, John Elkan . Matilde Borromeo.Lei è la sorellastra di Beatrice perché quest'ultima è nata dalla relazione tra Carlo Borromeo e Paola Marzotto . Invece, Matilde è nata dal matrimonio tra Carlo e la modella tedesca Marion Sota. Riguardo la sua vita privata sappiamo che è coinvolata a nozze con il principe Antonius von Fursteberg, ma i due si sono separati nel 2019